Calcio il nuovo Lecce si affida alle vecchie certezze, ad Avellino Cevanton regala il gol della vittoria, la cronaca della partita nel servizio di Carlo Carione. Volendo essere pignoli, il Lecce visto ieri ad Avellino si potrebbe definire bello e sciupone, troppo stretto dal punto di vista numerico, il margine con cui i salentini sono usciti vittoriosi dal partenio. In difficoltà solo nei primi 5 minuti di gara, i giallorossi hanno poi preso autorevolmente il comando delle operazioni, andando più volte vicini al gol. In rete, grazie anche alle prodezze di Cecere, il Lecce alla fine è andato una sola volta con una punizione dello scatenato Cevanton. Poi anche per l'imprecisione di Ledesma, il punteggio non è più cambiato. Nella ripresa il Lecce, più che cercare il raddoppio, ha badato a difendersi, ma Amelia solo in due circostanze è stato chiamato all'intervento. Soddisfatto a fine gara, il tecnico degli orussi che nella circostanza affrontava per la prima volta da avversario il maestro Zeman. Effettivamente nel primo tempo abbiamo giocato un buon calcio, potevamo chiudere anche con un doppio vantaggio, se no addirittura con un triplo vantaggio. Però non abbiamo mai rischiato e non è facile venire a Vellino la prima uscita con i tre punti e la squadra ha risposto discretamente.